fantastico ehi ragazzi mi nasconderò ad alex in questo labirinto spero che mi trovi andiamo qua c'è un'uscita forse no non meno di qua forse da questa parte si questo è un ottimo posto non mi troverà ehi ragazzi dov'è jason scommetto nel labirinto andiamo forza ok non è qui ma forse sarà qui no dove sarà andato scopriamolo forse di qua o ancora di qua non c'è dov'è dov'è scomparso non è qui cavolo aspettate forse l'ho trovato spero che non mi trovi sei qui sei qui jason si forza ti ho preso che bello forte wow andiamo vediamo si wow jason tu sai qual è questa parte del corpo è una bocca con la bocca si mangia si respira e e si sorride jason che cos'è questo penso sia un naso dal naso sento tutti gli odori e che respiro a pieni poltoni queste sono le orecchie e con le orecchie posso sentire tutti i suoni questi sono i miei occhi e con loro posso vedere questo è un cofetto questo è un cammello e questa è una mosca e questi dei teschi mani testa e gambe wow tutto bene e questo è il nostro corpo pomoni cuore pegato e stomaco molto bene oh ahhh 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 spero che abbiate imparato di più sul corpo e non dimenticate di iscrivervi su jason club si ciao 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 ragazzi ahhh 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 a Regularly